Si è aperta oggi con la conferenza dei servizi una nuova fase sulla vicenda Tamo e la Cremona. Dopo anni di inquinamento e di sentenze che hanno certificato il disastro ambientale, i danni alla piscina da 50 metri della Canottieri Bissolati, che si trova tra l'ex raffineria e il fiume Po, con il terreno dove la ditta prelevava il gas sottostante che è sprofondato e che ha probabilmente creato una zona di vuoto e anche la conseguente rottura di 24 bocchette, hanno spinto a richiedere nuove verifiche per certificare il fatto che negli ultimi tempi ci sia stato un ulteriore passaggio di sostanze inquinanti dall'ex raffineria alla Canottieri. C'è la necessità urgente di fare nuove verifiche per quel che riguarda l'inquinamento proveniente dal terreno Tamo e il verso la Canottieri Bissolati. E' emerso che tutti gli accertamenti fatti fino ad oggi erano fatti in luoghi che non erano idonei a dare una verifica oggettiva di quello che era il reale inquinamento dei luoghi o quello che c'è stato fino ad oggi e quindi sia ARPA che provincia si sono rese disponibili a fare nuove verifiche e già venerdì prossimo, 25, ci sarà un nuovo sopralluogo in contraddittorio con le parti perché anche Tamo e l'ha deciso di partecipare e quindi vedremo se quello che sostengono i nostri tecnici è fondato. L'Agenzia regionale per l'ambiente e l'amministrazione provinciale hanno dunque aperto a nuovi controlli anche se Tamo e il avrebbe negato ulteriori episodi di inquinamento. Noi sosteniamo il contrario e siamo sicuri di poterlo dimostrare attraverso appunto queste nuove verifiche che verranno fatte nei prossimi tempi già da venerdì. Questi fatti riguardano il terreno e non andrebbero a incidere sull'aria. Qualcosa che non incide sull'aria respirabile e tant'è vero che ci hanno consentito e ci consentono tuttora di poter utilizzare la struttura però comunque se c'è un danno che tuttora prosegue è giusto che venga fatto qualcosa e che poi ci siano le giuste conseguenze.